Afzal Muhammad aveva poco meno di 50 anni, viveva e lavorava a Manfredonia con dignità e onestà da una decina di anni. E' quanto afferma il sindaco Domenico Lamarca, all'indomani della morte del cittadino pakistano che ieri ha avuto un malore mentre inseguiva un ladro che aveva rubato nel suo negozio di bigiotteria e cover per telefoni cellulari. Ieri, a quanto sembra, continua il primo cittadino per inseguire uno o due ladri che avevano rubato della merce nel suo negozio. Il suo cuore non ha retto e quel sogno che l'aveva portato qui in Italia non è affondato nel mare come accade a molti ma si è fermato sulla piazza assolata della cattedrale in una domenica di caldo. A nome di tutta la città di Manfredonia esprimo vicinanza e condoglianza alle sue famiglie e a tutta la comunità pakistana. Indagini in corso da parte dei carabinieri che da ieri stanno verificando l'impianto di videosorveglianza presente nella zona centrale in corso Manfredi dove l'uomo aveva la sua attività commerciale. Nei prossimi giorni, conclude la marca, attiveremo alcune videocamere in punti più strategici della nostra città. Non basterà ovviamente, per una città più sicura bisognerà coltivare la responsabilità, l'attenzione e la correttezza di tutti.